Ciao ragazzi e bentornati sul canale. In questa serie di video di anatomia e fisiologia del cranio vi parlerò oggi di arcate dentali e denti e quindi anche dell'aspetto della variabilità di questi ultimi nell'ambito ovviamente dei gruppi umani. In primo luogo possiamo definire l'uomo sapiens quindi chiaramente la nostra specie come un animale in primo luogo cinodonte che cosa significa cinodonte? Cinodonte significa appunto che ha una camera pulpare relativamente piccola come nei carnivori, eterodonte perché ha dei denti anatomicamente funzionalmente ben diversi tra di loro e difiodonte in quanto possiede due dentizioni cioè una dentizione da latte come tutti quanti noi sappiamo e una dentizione permanente. In alcuni casi però per esempio l'anatomia non è sempre la stessa ci possono essere dei casi di terza dentizione la cosiddetta trifiodontia o terza dentizione. Questa trifiodontia in genere risulta essere limitata soltanto ad alcuni denti da chiarugi che chiarugi buccianti sono uno dei diciamo delle ciclopedie dell'anatomia più importanti italiane le ha definite appunto queste condizioni con il nome di iperodontogenesi chiaramente le anomalie dei denti possono essere appunto differenti e non tutte sono sempre patologiche tuttavia possiamo avere appunto delle anomalie dei tempi di eruzione e dei tempi di caduta dei denti e quindi quali sono queste? Abbiamo per esempio l'eruzione precoce dei denti da latte quindi dei denti da latte che rompono spuntano prima del dovuto e qui infatti sono noti dei casi di neonati con denti da latte i cosiddetti denti neonatali che di solito sono incisivi superiori e possono dare problemi per la madre perché durante l'allattamento possono arrecare delle lesioni al capezzolo e quindi delle mastiti e questo spesso comporta il blocco dell'allattamento ma in realtà è sufficiente andare dall'odontoiatra che eseguirà una coronoplastica cioè andrà a smussare diciamo questi denti o in alcuni casi saranno estratti. Tra le altre anomalie abbiamo invece l'eruzione precoce cioè prima del dovuto dei denti permanenti questo può dare problemi di allineamento per conflitti di spazio inarcata. Poi possiamo avere invece i ritardi di caduta dei denti decidui anche questi possono provocare problematiche di spazio o la perdita prima del dovuto quindi la perdita precoce dei denti decidui e quindi i denti rimanenti se il dente dal latte cade prima del dovuto andranno a occupare questo spazio che è destinato invece al succedaneo permanente. Ci saranno quindi in questo modo delle anomalie di eruzione dei denti permanenti che risulteranno ruotati sul loro asse oppure posti o vestibolarmente o lingualmente. Poi c'è la cosiddetta iperodontogenesi che è la comparsa di dentizioni successive alla seconda cioè successive alla dentizione permanente e di solito riguardano pochi denti. Il fenomeno dello sviluppo di nuovi denti dopo la caduta dei denti permanenti si verifica più facilmente in età molto avanzata. Infatti Pondracca descrisse un caso in una monaca di 53 anni oppure può verificarsi in soggetti molto giovani dove si vede una anomala e continua caduta dei denti. L'Aison infatti descrisse un ragazzo di 13 anni giunto addirittura alla sesta dentizione. E' più frequente nelle femmine l'iperodontogenesi e questo fenomeno si verifica nei vertebrati inferiori come per esempio i selacei ma per esempio anche gli squali appunto banalmente che hanno un sacco di dentizioni e quindi secondo Romity è praticamente un carattere atavico. Quindi un carattere che è una prova della nostra evoluzione che in alcuni individui si manifesta perché lo ereditiamo appunto dei vertebrati inferiori. Poi ci possono essere delle anomalie del numero dei denti. Normalmente nella nostra specie abbiamo 20 denti da latte e 32 denti permanenti. Ci possono essere delle anomalie di difetto o di eccesso del numero dei denti e quindi quelle in difetto sono per esempio le dentulia congenita totale cioè è una mancanza totale dei denti dalla nascita. Questa è stata descritta da Fox ma è molto rara. L'edentulia congenita parziale o anodonzia parziale che è la mancanza di quasi tutti i denti o di una parte. L'ipodonzia che è la mancanza soltanto di uno o due elementi dentali. La genesia invece che è la mancanza di un singolo elemento dentale sin dalla nascita. Per quanto riguarda la genesia è più frequente negli elementi distali di ogni serie. Quindi colpisce l'incisivo laterale, il secondo premolare e il terzo molare. Indice di una loro tendenza a scomparire nella nostra specie. Nell'uomo il dente in assoluto più stabile non soggetto a variazioni è stato visto essere l'incisivo centrale superiore. La genesia del canino è rara, colpisce un individuo su 500 nella popolazione italiana, l'inclusione più frequente della genesia. La genesia più frequente nell'uomo moderno è quella del terzo molare. È più comune secondo Mantegazza nei brachicefali, forse perché il cranio più corto è un fattore favorente la carenza di spazio nel tratto più posteriore dei processi alveolari e dei mascellari. Nelle popolazioni europee la genesia del terzo molare è molto 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 frequente. Ovviamente per chi non lo sapesse il terzo molare è praticamente il dente del giudizio. Chiaramente ha visto che nel 42,42% degli europei manca almeno molare e questa frequenza crolla al 10,9% nei melanodermi africani. Quindi la genesia del dente del giudizio sostanzialmente è più frequente negli europei rispetto che negli africani. Poi ci sono invece quelle anomalie da eccesso nel numero dei denti, i denti sovrannumerari, che sono più frequenti nella mascella che nella mandibola, per esempio il mesiodens che è un incisivo sovrannumerario, o il quarto molare che è più frequente nei melanodermi e nelle scimmie antropomorfe. Poi ci sono delle anomalie del volume dei denti, quindi denti molto grandi e quindi si parlerà di macrodonzia, come per esempio l'incisivo laterale, o microdonzia, quindi il terzo molare, più piccolo del dovuto, i canini più piccoli del dovuto, gli incisivi più piccoli del dovuto. Variazioni anche nell'ambito della forma del dente, per esempio variazioni nell'ambito della corona o anche della radice. Per esempio gli incisivi possono avere una radice bifida o accessorie, i canini anch'essi possono avere una radice bifida, una radice accessoria, una radice ad uncino. Oppure può anche riguardare la forma dei molari, che possono avere delle radici divergenti o delle radici convergenti, o delle radici a uncino, o delle radici incrociate. Poi ci sono anche nell'ambito sempre dei denti delle varianti antropologiche che ricorrono in sequenze familiari o razziali, per esempio il tubercolo del carabelli, la quinta cuspide, che è situata sul bordo palatare della corona del primo molare superiore ed è frequente nelle nostre popolazioni e quindi nei caeucasici. Difetti dello smalto si possono riscontrare in iponutrizione o in alcune patologie, come indice di sofferenza degli ameloblasti. Poi c'è anche il cosiddetto taurodontismo, che è un ingrandimento della cavità polpare dei molari e dei premolari con parziale fusione delle loro radici, frequente soprattutto negli eschimesi ed è tipica nei denti dei bovini, da cui ne deriva il nome, appunto, dove le camere polpare sono enormi e le radici sono coalescenti. È raro negli umani moderni, però è frequente in alcuni fossili umani. Poi ci possono essere delle variabilità per quanto riguarda la posizione dei denti, e quindi si parlerà di malposizioni dentali, o per quanto riguarda la direzione di crescita, non di crescita, la direzione di eruzione dei denti e quindi si parlerà di disodontogenesie. Per esempio possiamo avere la caduta precoce del deciduo, il dente deciduo, che comporterà una riduzione dello spazio per il dente permanente, quindi il dente permanente romperà fuori asse o ruotato, perché per poter occupare con diametro diciamo più piccolo lo spazio ristretto riservatori dovrà ruotarsi o andare fuori asse. La causa principale nelle popolazioni europee odierne della caduta precoce del dente deciduo e la carie dentale. Infatti è importante curare i denti decidui cariati proprio per mantenerli, in quanto fungono proprio da mantenitori di spazio. Se vengono persi per via della carie prima del dovuto, ovviamente lo spazio non è mantenuto e quindi chiaramente tutto questo di rimando comporterà malposizioni dentali. Le malposizioni dentali più frequenti sono quelle del canino e del terzo molare. Il canino spesso è romper ruotato su se stesso oppure viene leggermente traslato in senso vestibolare e così via. Il terzo molare inferiore invece nella sua progressiva eruzione può seguire per deficit di spazio una linea curva che porta l'asse del terzo molare a disporsi obliquamente invece che normalmente rispetto al piano clusale. E così il dente del giudizio si incunea con la corona distalmente alla radice della corona del settimo, spingendolo anteriormente. Questa condizione è tipica proprio dell'uomo moderno e denominata come distontiasi del terzo molare, cioè difficoltosa eruzione. Gli ottavi, una volta completata la formazione della radice, non spingono più chiaramente gli altri denti. Molto spesso vengono pazienti da me da 35 anni che dicono vabbè ma il dente del giudizio ha spostato i miei denti. Dipende perché il dente del giudizio si è completato la formazione della sua radice, chiaramente non può più spingere. Il dente può rimanere incluso e scoperto occasionalmente con un RX di routine o può rompere in parte e dare degli episodi di pericoronarite. Poi possiamo avere anche i cosiddetti denti denti ecterotopici, cioè denti che rompono insedi assolutamente patologiche nelle fosse nasali o nel palato osseo e così via. Ci sono poi le variabili dentali per quanto riguarda il complesso dell'arcata, quindi possiamo avere i cosiddetti diastemi dentali, frequenti soprattutto tra incisivo laterale e canino superiore o da canino e premolare inferiore o tra i due incisivi centrali superiori, in questo caso prenderà il nome di trema. I diastemi sono più frequenti nelle popolazioni melanoderme. Quello che vi dicevo prima che il dente del giudizio è rompe, inclinato in avanti proprio per carenza di spazio, vedete come va a cariare il secondo molare praticamente o se la radice non si è ancora formata in via di formazione può anche spingerlo in avanti. In questo è un caso tipico in cui l'estrazione del dente del giudizio è raccomandata. Molti odontoiatri invece raccomandano l'estrazione del dente del giudizio a prescindere. Io sono del parere che il dente del giudizio vada rimosso solo quando dà problemi. Poi ci possono essere delle variazioni dentali in base all'età. Per esempio con il passare del tempo c'è l'usura dei denti. Questo nella nostra società non viene molto accettato, viene accettato con riluttanza. In un'epoca in cui vanno di moda le faccette dentali, i ponti, l'odontoiatria cosmetica, estetica, quasi come se l'odontoiatra fosse un estetista ma in realtà è un medico che riabilita una funzione orale, la funzione orale primaria che è la masticazione, chiaramente viene accettato con riluttanza. In alcuni casi invece l'usura dei denti non è patologica, è assolutamente normale e fisiologica. Inoltre caratteristico dell'invecchiamento è, secondo Pedro Planas, l'invecchiamento in protrusiva, cioè la mandibola tende ad andare in avanti l'individuo invecchia andando testa a testa. Questo è normale, lo dimostra l'umanità fossile ritrovata. Ma questo oggi non va neanche di moda, ma in realtà è la natura. Con il passare degli anni ci può essere anche un'atrofia della camera pulpare e un'atrofia dei processi alveolari. Inoltre i denti sono più grandi nei maschi rispetto che nelle femmine e i denti che mostrano maggiormente il dimorfismo sessuale sono gli incisivi e anche i canini. I denti tendono ad essere più giallastri nei maschi, l'eruzione dentale invece in media è più precoce nelle femmine rispetto che negli uomini. Questa discrepanza temporale in media aumenta il rischio di carie nelle donne. Variabili ci possono essere anche in base alla popolazione, infatti in alcune popolazioni asiatiche, quindi le popolazioni mongole, i nativi americani, i cinesi settentrionali, quindi il cosiddetto uomo di Pechino, abbiamo i cosiddetti incisivi a pala. Di questi ne ho parlato in altri video sul mio canale, quindi non mi dilungo. Inoltre le dimensioni dei denti variano spesso anche in base ai popoli della terra. Gli europei sono microdonti, i mongoli sono mesodonti, pigmei, bantu e melanesiani tendono a essere invece macrodonti, quindi noi europei abbiamo dei denti in media più piccoli rispetto agli africani. La cuspide del carabelli è tipica invece dei caucasici, i diastemi sono invece più tipici diciamo del ceppo negroide, quindi degli individui melanodermi, anche se pure in popoli europei ci sono diastemi dentali. Ne ho visti tantissimi io. Il proniatismo dentale invece, cioè la sporgenza dei denti, è più frequente nell'individuo i melanodermi, l'asse dell'incisivi è più proinclinato in avanti. Questo però, il proniatismo dentale, cioè la sporgenza dei denti, si riscontra anche negli europei assolutamente. Anche a me sono capitati pazienti europei che hanno questo proniatismo dentale, però in media è più frequente nei popoli dell'Africa. Variabilità in base alla popolazione si hanno anche nel volume, nelle dimensioni quindi dei molari, perché nei popoli leucodermi, quindi nelle nostre popolazioni sostanzialmente, quelli con la pelle bianca se vogliamo, abbiamo che il primo molare è più grande del secondo molare, il secondo molare è più grande del terzo molare. Nelle scimmie antropomorfe, nei popoli invece melanodermi, questo rapporto è invertito, cioè il primo molare è più piccolo del secondo molare, il secondo molare è più piccolo del terzo molare. La ragione di questa, diciamo, di questo non è ancora ben chiaro. Probabilmente si ritiene che nelle antropomorfe e nei popoli melanodermi, diciamo, il fulcro masticatorio, cioè il dente che è il dente chiave nella masticazione, è il terzo molare quasi, mentre nei leucodermi il fulcro della masticazione è più in avanti, è a livello del primo molare, perché il terzo molare sta scomparendo. È costante invece questo rapporto negli aborigeni australiani, secondo Paul Broca. Primo, secondo e terzo molare hanno presso a poco le stesse dimensioni. Tipica è l'occlusione testa a testa degli aborigeni australiani e degli indigeni Yanomami, che è un'occlusione funzionale, il sovramorso incisale è comparso nei popoli della terra con l'invenzione ovviamente della forchetta e del coltello ovviamente. Inoltre possiamo anche dire che ci possono essere anche delle varianti filogenetiche. Nell'uomo la grandezza dei molari, come abbiamo visto, è discendente, nelle antropomorfe invece è ascendente. Il terzo molare ha una genesia frequente, come abbiamo visto, e quindi è un dente in via di estinzione. Probabilmente nelle prossime generazioni tenderà a scomparire. Perché? Perché la nostra dieta, come ho già detto tantissime volte in altri video, richiede sempre meno funzione masticatoria. Anche i canini sono dei denti che nel corso della nostra evoluzione hanno subito le maggiori variazioni, soprattutto in ambito di dimensioni. In specie precedenti, infatti, la nostra, il canino aveva uno sviluppo straordinario legato sostanzialmente ad una duplice funzione, cioè quella di strappare il cibo, ma anche di segnalare aggressività. In tal senso la sua macrodonsia, specialmente nelle specie fossili, come pure nelle scimmie antropomorfe attuali, è legata soprattutto all'individuo maschi. Nei primati il canino è uno degli elementi, diciamo, che costituisce proprio il dimorfismo sessuale. La riduzione di volume subita dal canino trova confronti solo nella riduzione del volume subita dal terzo molare nel corso dell'evoluzione che conduce all'uomo moderno. Di conseguenza, anche questo dente e lo spazio che va a occupare nelle arcate dentali è considerabile un elemento in via di atrofizzazione nella nostra specie. Per questo ci sono agenesie, inclusioni, rotazioni del suo asse, configurandosi appunto in una situazione di affollamento che dimostra il deficit progressivo dello spazio che è in corso nella nostra specie. Spesso infatti si riscontrano, diciamo, avanti o dietro al canino, anche nell'uomo moderno, come delle configurazioni vestigiali. La dentatura spesso è sottoposta in alcuni casi a trattamenti artificiali con alterazioni per caratteri etnografici. Alcuni popoli, per esempio, negli aborigeni delle isole Mentawaii. In altri popoli i denti vengono colorati con sali minerali o metallici, in altri si incidono, si incastrano delle pietre preziose. Noi invece facciamo le faccette, l'ortodonzia invisibile. In base alla cultura ovviamente i denti vengono modificati. Bene ragazzi, con questo video molto pieno ho terminato. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace, ad iscriverti al canale. Se hai delle domande scrivile qui sotto nei commenti o contattami in privato via mail. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!